momo in seria difficoltà per freddy purtroppo non ce la va non ce la fa fottuto da freddy andiamo l'ekin per simple tentano di avvicinarsi restano gli ultimi quattro player nascosta era bene meglio dietro i tronchi margot si prova a atterrata da freddy purtroppo resta l'ekin ultima speranza vediamo per freddy la nota percepisce qualcosa se ne va freddy l'ekin sulla no Sì, 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 Sì. un'imizbijo quando oh non juu 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 braun il faktore braun il fatto purtro purtro Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.